Come si confronta il problema sismico? Come se ne conosce gli aspetti più particolari ma soprattutto che vuole valorizzare delle figure come quella degli ingegneri? L'abbiamo vista del resto della partecipazione di oggi. Io sono particolarmente felice di essere stato presente oggi perché proprio quando ero presidente dell'ordine di Ascoli abbiamo portato Massimo Mariani da oltre 20 anni che conosciamo lui e che lo facciamo conoscere alla comunità degli ingegneri ascolani. Da sempre stimiamo l'ingegner Mariani, il professor Mariani con il quale abbiamo una collaborazione appunto ultraventennale non solo come nel sistema ordinistico ma anche professionalmente essendo lui anche un portatore di cultura anche diciamo professionale per molti colleghi dell'ascolano. Non solo i dati scientifici ma anche il confronto di esperienze. Le giornate di oggi mi sembra che facciano emergere questo dato, cioè la voglia di confrontarsi tra colleghi. Sicuramente c'è molto bisogno diciamo di questa cultura portata sia dall'ingegner Mariani che dal professor Borri, cultura diciamo soprattutto sulle murature e noi siamo proprio cresciuti sui testi sia del professor Borri che del professor Mariani. Grazie. 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 Grazie.